allora parliamo di tradimento ragazzi un tradimento da parte di una donna e è una cosa da vedere da mille punti di vista l'unica soluzione probabilmente la trovate in questo video ok ovviamente io non vi dirò che cosa fare non vi suggerirò come comportarvi con la vostra donna vi suggerirò come comportarvi con voi stessi ok perché tutto parte da lì se voi non capite non riuscite a manovrare voi stessi di fronte a queste problematiche purtroppo le donne perderanno attrazione di cosa sto parlando allora se adesso guardo guardo un commento che mi è stato fatto di andrea posato come bisogna comportarsi se si scopre un tradimento da parte di lei va bene discuterne e se ci sono i presupposti continuare una relazione allora per rispondere direttamente ad andrea quali sono i presupposti io vorrei sapere perché vedete che in un commento che magari in questo momento state scrivendo se siete iscritti al canale che mi fate le domande ok grazie bene se ho tempo cerco di rispondere a tutti oggi no per esempio non si capisce questa cosa non si capisce troppo è per quello anche che vi invito con delle domande così così importanti a venire in consulenza direttamente andate su www attrazioni x puntocom e trovate tutti i piani di consulenza i presupposti e cazzo è un concetto importante cosa vuol dire i presupposti minchia ti ha tradito è ovvio che se io adesso ti dicessi cazzo una donna quando ti tradisce mandala fanculo questo è quello che pensa l'amico no l'amico che ti dice ti ha tradito mandala fanculo e ci siamo in un certo senso gli do ragione però manca la base manca il dopo manca il cazzo comunque io so che andrea se è stato tradito sta male ma perché ho detto che bisogna partire da noi stessi perché come ho già risposto in un video essere traditi per una tradire per una donna non vuol dire tradire se una donna tradisce è un togliersi da una situazione in maniera molto molto tranquilla ok cioè questo qua non provo più attrazione per lui quindi non lo amo ci sto insieme per una sorta di contratto un contratto che non c'è che cosa vi siete fatti la crocina vuoi stare insieme commessi o no col bigliettino vedete che questo è un modo di ragionare molto bambinesco ed è bambinesco anche per un uomo pensare al tradimento in questo modo che allora a parte il fatto che se siete sposati vale la stessa cosa non è che l'anello o il giuramento che avete fatto capito ragazzi siamo quasi nel 2024 svegliamoci bene in ogni caso se una donna tradisce come ho detto prima non tradisce è che non provando più attrazione e magari la prova per qualcun altro se non prova più attrazione vuol dire che ha perso stima e se ha perso stima che è la parte fondamentale non vede lei un tradimento perché tradimento è lo dovete mettere sullo stesso piano della stima se tu stimi qualcuno non lo tradisci ma se non lo stimi è impossibile che tu tradisca una persona che non stimi ci siamo per un attimo da capire quindi se una donna ha perso stima e adesso vediamo perché ha perso stima ha perso anche attrazione e di conseguenza anche amore quindi se ti ha tradito andrea il discuterne se ci sono i presupposti di continuare nella relazione ti vai a mettere in un buco che fa più male a te che a lei e adesso ti spiego il perché il concetto di tradimento tra uomini e donne è diverso ok quando noi metti metti che ci siano stati presupposti facciamo che quanti di voi sono tornati insieme alla propria donna magari facendo un po i passivi aggressivi poi lei ha cominciato a dire ti prego perdonami amo solo te voglio stare con te voi avete fatto un po quelli sostenuti poi alla fine però ci siete stati ecco voi ci siete stati perché innanzitutto perché egoisticamente pensate che ok ha scelto me invece che l'altro però questa è soltanto un'illusione perché vivrete sempre col dubbio che magari potrebbe ripresentarsi quest'altra persona e qua vi potrei anche fermare che perché questa persona probabilmente non si ripresenterà perché se lei è venuta con voi è tornata con voi lei lui cioè l'altra persona il terzo incomodo è stato lui quello che ha preso a calci nel culo lei ok se non sarebbe tornata a voi sono cattivo lo so però vi faccio pensare bene stavo dicendo che il concetto di tradimento tra uomini e donne è diverso una donna non rispetterà più un uomo allo stesso modo quando lei torna dopo un tradimento e lui la riaccetta questo è la parte fondamentale di tutto quindi se avete capito l'inizio che già lei se andata con un altro ha perso attrazione e perché ha perso rispetto se voi la riaccettate lei non vi vedrà più allo stesso modo come ho detto prima magari vi comincia a fare regali pur di convincervi vi sta seducendo ragazzi se siete nuovi di questo canale io faccio questa distinzione tra attrazione e seduzione non l'ha trovata da nessuna parte perché è un ragionamento completamente mio come i due tipi no contact non li trovate da nessuna parte ok cioè quando parlo di no contact e vi dico che ci sono due tipi nessuno ha mai parlato i due tipi cioè basta soltanto mettersi a ragionare basta vedere tanti casi studio come vedo io basta sentire tanti ragazzi in consulenza e capire che le cose che sento io non le potete sentire voi perché voi avete una relazione massimo avete l'amico che vi parla della stessa cosa io ne sento davvero decine e decina settimana è per quello che quando venite in consulenza con me avete non la vostra consulenza ma avete tutto il bagaglio di tutti gli altri ragazzi che hanno risolto con successo le proprie le proprie relazioni sono riusciti a riattivare l'attrazione io vi dico come fare in ogni caso però perché non voglio poi perdermi ma quando una donna perde rispetto per un uomo non prova più attrazione quindi ricordati che le donne sono attrate all'uomo alfa si dice no questa cosa l'uomo alfa l'uomo che è un po sdoganata questa roba ma che cosa vuol dire cos'è l'uomo alfa è quello che non accetta la promiscuità la donna promiscua io so che le cose che sto dicendo voi praticamente le pensate già ma voi se siete lì che state male perché lei vi ha tradito non è che state male per la coppia voi state male perché siete stati colpiti all'ego c'è stato qualcuno più bravo di voi c'è stato qualcuno che ha scopato la vostra fonte di sesso di riproduzione sessuale c'è lei anche se il sistema non vi permette di dirlo di ammettere di ammetterlo ma quando fate sesso con una donna voi pensate che lei sia vostra e non volete che ci siano altri che ve la scopino ok ragazzi l'eccezione quella di chi scambia ok no è sempre un'eccezione l'eccezione conferma la regola parliamo di coppie normali se voi state con una ragazza e fate sesso con lei e voi dentro di voi sapete che lei è vostra e non volete nessun altro che entri al posto al posto vostro che c'è anche un concetto in psicologia che si chiama mate guarding cioè la difesa del compagno e voi farete di tutto per mettere fuori gioco questa persona infatti cosa vuol dire la domanda di andrea come bisogna comportarsi se si scopre un tradimento la discussione che ha detto andrea cioè va bene discuterne se ci sono i presupposti di continuare nella relazione è l'unica arma che andrea pensa sia possibile usare per sfruttare il discorso del mate guarding cioè parlo con la mia donna per convincerla di scartare l'altro e venire con me capite quanto è piccolo come pensiero perché una donna non si basa sulle parole per per le donne le parole non valgono niente quindi stare tutta la notte con lei a parlare e cercare di convincerla che voi siete il miglior partito che voi siete il miglior uomo e che la relazione non possiamo distruggerla perché abbiamo investito tanto che in verità investito tu e poi ne parliamo di questa cosa perché se non ti avrebbe tradito quello è l'unico modo che una persona come andrea pensa che ci sia per riattivare l'attrazione ma l'attrazione non si basa sul discutere con una donna la donna vuole le prove della vostra forza mentale e probabilmente la persona con cui vi ha tradito ha dimostrato di essere di valore superiore anche in forza mentale ovviamente se la vostra donna è innamorata di voi vuole soltanto voi i segnali all'altra persona per provarci non li ha dati perché non ci pensate mai a queste cose una donna sapete ma in verità non lo sapete che attrae un uomo apposta il processo di seduzione lo inizia la donna è per quello che non dovreste mai cominciare voi la seduzione sedurre un uomo non dovrebbe mettersi a sedurre una donna non ha senso non non ha a meno che non vogliate relazioni a breve termine però voi non volete relazioni a breve termine e vi dico io perché non volete relazioni a breve termine perché siete stati manipolati dal sistema per volere il e vissero felici e contenti quindi le relazioni a breve termine magari le volete nell'adolescenza poi create questo modo di fare avete questo modo di fare con le donne che arriva quella che vi fa perdere la testa voi avete questo bagaglio culturale non va bene non va bene perché poi non avete le armi giuste per creare attrazione e portarla avanti nel lungo periodo ci siamo perfetto ora se voi visto che ho detto che le donne vogliono cercano l'uomo alfa quello con la forza mentale che non accetta la promiscuità quando riprendete la vostra donna dopo un tradimento una parte di lei sarà sempre come si sentirà sempre questa debolezza la domanda è perché l'avete ripresa dentro di lei sa che voi cioè un uomo come dovrebbe essere un uomo come vorrebbe che lei fosse un uomo non accetta questo tipo di trattamento e se voi alla fine la riprendete come ho detto all'inizio magari ve l'ha tirato un po fate quello che gliela fa sudare ma nel concreto siete ancora lì lei ha capito che vi siete adattati lei ha capito che avete accettato il suo comportamento del cazzo e quindi non avete la v avuto la forza necessaria per prendere le vostre cose andarvene se voi non avete la forza necessaria per prendere le vostre cose andarvene vuol dire che siete di qua 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 e lei a quel punto lì ha fatto bene a tradirvi perché già ritorniamo al concetto iniziale già se vi ha tradito ha perso stima se voi poi rimanete lì dopo un tradimento capisci che la vostra stima va ancora più giù perché questo perché a quel punto lì lei sa che non ci sarà niente che vi potrà mai allontanare da lei e quindi ritorniamo al discorso se avete visto qualche mio video in più che se una donna sa che può tenere a impugno il proprio uomo non prova attrazione proprio per il fatto che non corre e se non corre non prova attrazione voglio fare un inciso su questa cosa cosa vuol dire provare attrazione provare nel senso vero del termine provare a livello fisico quando voi sentite all'inizio no che la vostra donna sento qualcosa per quello lì magari scusami un'amica no dice a quello lì mi piace sento qualcosa c'è della sintonia sono vibrazioni quindi vedi che sta parlando a livello a livello emozionale benissimo non è pensata quella cosa lì sento qualcosa per lui sento che c'è qualcosa sento che c'è connessione tra di noi la stessa cosa poi quando vi dice se non se sento che non c'è più connessione sento che non c'è stato quel qualcosa in più in quanti di voi riescono a uscire con una donna per qualche mese poi arriva un punto solitamente dopo il sesso perché non guardate i miei video e non sapete cosa fare dopo il sesso e che di che lei si allontana a quel punto lì andate nel panico e quindi la rincorrete una donna si sente rincorsa non date l'opportunità a lei di rincorrere voi e a quel punto che cosa succede che lei non prova niente ma perché perché voi non fate mettere in moto il processo di attrazione il processo di attrazione è un processo di vibrazione cioè quando le emozioni di una donna vibrano lei si sente attratta da voi ragazzi veramente questo video dovrebbe essere a pagamento comunque voglio fare un inciso a proposito di pagamento ci sono sto per sto per far uscire il prossimo corso il mio vero corso quello il videocorso qualcosa trovate già qualcosa che ho fatto lo trovate sul mio sito attrazione x.com però per esempio c'è un videocorso che ho fatto che è soltanto nel piano più alto delle consulenze oppure un 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 audiolibro che io penso sia probabilmente un audiolibro molto importante per chi inizia una relazione relazione oppure per chi l'ha finita e vorrebbe capire che errori ha fatto infatti si chiama parti col piede giusto e non parla di come far andare bene un appuntamento ma quel libro più lo ascoltate più vi toglie da da tutte quelle situazioni che che avete messo in atto durante il primo appuntamento che mettono i semini ok per la perdita di attrazione futura che cosa vuol dire questa cosa che quando venite in consulenza mi dite a dopo un po lei si è stancata quello è il risultato di ciò che avete fatto prima proprio ieri ho parlato con un ragazzo in consulenza che si è scoperto che soltanto lui chiamava lei soltanto lui la cercava ma perché perché c'è una credenza alla base che noi uomini dobbiamo essere i principi azzurri no quelli che si impegnano ma va bene ma ci sta il concetto ci sta ma non mesi una settimana due al massimo ragazzi ok di questa cosa ne parlo anche nel mio manuale se voi lavorate tanto su una donna e c'è chi l'ha fatto magari quella donna lo ottenete ce la fate l'avete conquistate vedi anche il conquistare è sbagliato proprio il termine perché è la donna che dovrebbe conquistare voi perché la donna che dovrebbe conquistare voi perché conquistare qualcuno per metter su una coppia una famiglia è femminile un uomo vuole proteggere la sua libertà se voi volete proteggere la vostra libertà perché avete tante cose da fare tanti progetti tante risorse da mettere in ballo la donna vede le risorse che potete procurare a lei e ai suoi futuri figli mi raccomando cioè se pensate che le donne vi vedano come dico sempre che amino il proprio uomo come amino i propri come amano i propri figli futuri siete veramente fuori strada una donna ama un uomo per quello che può dare a lei ragazzi se mi dispiace per chi pensa che questi discorsi siano maschilisti o cazzo del genere ma è proprio così che funziona perché sennò non ci saremmo mai evoluti fino a questo punto ok cioè se una donna vede te come uomo della sua vita è che vede che tu la potrai proteggere quindi è un grandissimo complimento ma la cosa peggiore che potete fare è essere l'uomo focalizzato su di lei che vuole proteggerla come a parole tornando prima dal lavoro essendo accondiscendente cambiando per lei è diventando un'altra persona a quel punto lì la prova qual è stata che il vostro modo di converti comportarvi è cambiato per fare piacere a lei ma una donna vi ha già visto come uomo della sua vita all'inizio e per quello che ritornando all'audiolibro parti col piede giusto è proprio fatto per evitare tutte queste cose tutti questi errori di autosabotaggio che facciamo durante i primi appuntamenti che poi paghiamo il conto quando quando si ritira no la donna si ritira si comincia a raffreddare ci sono motivi per cui si raffredda e per capire questa cosa vi invito in consulenza perché non è matematica pura bisognerebbe vedere che cosa avete fatto e però solitamente gli errori iniziali sono quelli che poi pagate lo scotta alla fine ok ritornando invece al discorso del tradimento quando voi riprendete una donna dopo che lei vi ha tradito quando cercate di risistemare le cose ri come si dice come che va detto quale sand se no andrea va bene discutere continuare la relazione cioè se voi volete continuare una relazione dopo un tradimento state dando lei alla prova che voi non siete uomini ma non veramente non sono discorsi come dire ah non sei uomo è proprio così una donna non si sente attratta da un uomo del genere perché la donna si sente attratta proprio da quell'uomo che dice è stato bello hai avuto una possibilità non l'hai saputa sfruttare ciao ne ok è quello è quello che vuole una donna non vuole se lei dice ti prego perdonami ti amo ancora e tutto il resto e voi la prendete lei dice ok allora con questo uomo qua non ci sono limiti io mi posso spingere avanti perché se lui ha accettato la promiscuità come ho detto prima cazzo c'è che cosa posso fare ancora pur di fargli mettere questi confini quello è un un problema di confine se la donna ha tradito se la vostra ragazza vi ha tradito è che non avete messo i confini è per quello che dico che una donna non tradisce una donna non ha tradito è semplicemente è una persona che è completamente libera può fare quello che vuole di voi ma perché voi se state in una relazione vi mettete pensate sempre che le donne abbiano la vostra eticità il senso dell'etica e quindi dice se stiamo insieme ci rispettiamo cioè così noi stiamo insieme e quindi ci rispettiamo no è una roba sul quale dovreste lavorare giorno per giorno il farvi rispettare dalla vostra donna e se voi i paletti uno non li mettete oppure li mettete troppo tardi il suo terreno di gioco è molto grande solo che voi che cosa fate ritornando infatti al discorso dei primi appuntamenti voi essendo accondiscendenti sì essendo accondiscendenti subito pur di portarla a letto intanto lei capisce che vi è in pugno lì e quindi non prova attrazione perché sente che l'avete già messa su un piedistallo come si dice e quando una donna sente questa cosa proprio per per ipergamia cercherà un uomo di valore superiore e cioè le donne non è che stanno con voi per misericordia mi raccomando cioè sembrano sembrano banali questi discorsi ma non lo sono perché poi vi comportate come infatti andrea posato che pensa infatti c'era anche un altro commento adesso non lo trovo andrea mi dispiace però lui aveva poi detto la sua perché avevo risposto a un altro video e ha detto secondo me però non è sempre allora secondo me già nel mio canale non va bene ok perché è il mio canale se non vi va di ascoltare le mie cose andate in canale di altri ma secondo me non è così perché al giorno d'oggi diceva è più normale tradire sì va bene ma perché è più normale tradire proprio perché ci sono persone come te andrea che vogliono discutere con una donna pur di continuare la relazione quindi le donne vorranno sempre stare da sole proprio perché non trovano non riescono a trovare uomini così che mettano il paletto iniziale il fatto che il paletto iniziale voi non lo mettete perché perché non avete una donna se siete da soli e conoscete lei su tinder su instagram tutte queste cose che mettete già la base una base di merda sapete come la cosa cosa ne penso io dei dei social network perché mettono già subito una donna sul piedistallo e poi va bene parliamo in un altro video a quel punto lì cioè le donne vorranno sempre stare da sole in questo caso come dice andrea è normale tradire normale sto cazzo tradire non è normale tradire è normale tradire per una donna perché non pensa che ci sia un tradimento perché l'uomo 80 per cento degli uomini 85 per cento degli uomini tra un po arriveremo anche a 90 per le donne sono merce da buttare merce sacrificabile e se voi non capite questa cosa non potrete mai essere in quel 15 per cento 10 per cento 1 per cento quindi l'ultima cosa che voglio dire riguarda questa al discorso del dell'infideltà no quando un uomo accetta il ritorno della propria donna succede un casino terrificante all'interno dell'uomo si sente sbagliato perché a livello inconscio lui sa che non è riuscito ad andare via e questa cosa comincia a creare dentro di lui un senso di odio per se stesso un senso di non sto bene con me stesso perché cazzo non sono riuscito a andare a fanculo non sono riuscito ad alzarmi ad alzarmi e dire ciaone hai perso l'occasione questi discorsi ripeto uno può dire adesso perché io lo so che una percentuale altissima di voi che mi sta ascoltando comincia a interpretare queste cose in modo sbagliato perché non pensate e una adesso la tratta male allora io rispetto me stesso vaffanculo e cominciate a essere delle persone passive aggressive ma non è quello il concetto e che voi dovete essere talmente sicuri di voi concentrati su di voi avere delle cose importanti da fare della vostra vita che questi problemi non dovrebbero neanche presentarsi perché questi problemi capitano soltanto a chi non è focalizzato sulle proprie cose quando venite in consulenza io faccio davvero i complimenti a chi viene in consulenza perché sono persone che si mettono in gioco ok prendono degli schiaffi emotivi della madonna lo so però poi come gli occhi si cominciano ad aprire e vedere le relazioni sotto un altro punto di vista una donna non vorrà mai stare con un uomo che non sa di che cazzo di morte morire ogni giorno non sa dove sta di casa la domanda che faccio è sto lavorando su di me in quanti qua adesso stavo vedendo un po di commenti in quanti mi dite sto lavorando su di me ma se io vi chiedo a che cosa state lavorando a seconda delle domande che mi date cioè io capisco che voi non avete davvero degli obiettivi gli obiettivi hanno termine voi avete dei sogni obiettivi vuol dire mettersi una data di scadenza al proprio obiettivo e quando vi avete una data di scadenza perché volete raggiungere degli obiettivi che scassa il mondo se non li raggiungete una donna non c'è nel vostro pensiero e quando una donna non è nel vostro pensiero voi in automatico state dimostrando che non siete focalizzati su di lei e quindi una donna vorrà sempre stare su di lei ora ci potrebbero essere donne che si sentono trascurate quindi ve la fanno pagare no dita non mi non mi non mi caghi più non mi stai trascurando ma quello è un tentativo manipolatorio per vedere anche in questo caso la vostra reazione e se voi vi spaventate rinunciate a quello che state facendo che lei segretamente è molto attratta da questa cosa ma in quel momento deve vedere se voi siete davvero quella persona lì e basta lei dirà non mi non mi caghi più non mi ami mai voglio che mi dimostri più amore o voglio queste cose qui che se voi cambiate tornate prima dal lavoro volete farla contente state cambiando e se state cambiando lei dice beh è stato facile questa persona non mi potrà mai difendere in un momento dove c'è davvero bisogno perché metti che faccia sesso con lui faccia un figlio con lui i geni di mio figlio sono di questa persona qua che si è fatta calpestare in società mio figlio è in pericolo io sono in pericolo e questo non va bene